ciao bentornati da fra male sanco come direbbe qualcuno oggi sono un pochino stanco ma un pochino non tantissimo perché direte voi beh che dire diciamolo allora a lavoro ho iniziato ad andare fuori ufficio a fare dei lavori perché devo imparare un mestiere nuovo diciamo così in cui c'è bisogno di andare in giro a fare delle cose in breve ieri sono stato a Bologna e voi direte che figata sì bellino cioè a me garba viaggiare soprattutto in macchina però per lavoro diventa un po' pesante più che altro il fatto è che non è che c'è tempo per viaggiare effettivamente te vai a Bologna fai quello che devi fare e vai via subito c'è anche il tempo di vedere no quindi è pesante abbastanza però mi piace oggi però l'ho fatta grossa perché perché devo andare a Roma Roma non è proprio dietro l'angolo io sto a Firenze non è proprio a Firenze ma a Roma da Firenze a Roma sono tre ore di macchina e ovviamente siamo andati in macchina cioè non proprio in macchina ma in furgone insomma è stato un viaggio a Arduo e c'era da fare un intervento in un ospedale si chiama Rome American Hospital tipo una clinica privata e niente mi sono svegliato molto più presso del solito mi sono svegliato tipo un quarto alle sei più o meno quando di solito mi sono andato alle sette e mezzo e niente siamo andati lì abbiamo fatto quello che dovevano fare siamo tornati indietro e erano già alle sei quando siamo arrivati io il mio collega ha guidato all'andata io ho guidato al ritorno è stato infernale il viaggio di ritorno perché ero stanco avevo sonno poi ad un certo punto di Luviavia di Svarv insomma non vi sto neanche a raccontare però volevo volevo comunque pubblicare il video in tempo perché ora sono le un quarto alle nove quindi spero che sì questo vi deve essere forza in tempo però sappiate che io ci tengo a voi e che quindi mi sono fatto un culo così per riuscire a pubblicare il video delle nove in orario quindi ricordatevi che vi voglio bene Shauvet Grub Limits Grazie a tutti